A Giulia 9 i residenti a ridosso della stazione ferroviaria hanno formato un comitato per protestare contro i persistenti lavori ferroviari che stanno causando, a loro dire, inquinamento acustico e atmosferico, danneggiando la salute pubblica. Il cantiere attivo 24 ore su 24 vicino ha reso a detta del comitato l'area irrespirabile e le aree verdi inagibili. Il comitato mira a far valere le normative sulla prevenzione dell'inquinamento, come sancito dagli articoli 884 del Codice Civile e 659 del Codice Penale. La nostra battaglia è per il diritto e un ambiente salubre, dichiara il comitato. I lavori di ristrutturazione che si protraggono da anni non mostrano segni di conclusione, aggravando la situazione per i residenti. Il livello di rumore è insopportabile, le salazioni danneggiano la nostra salute e quella dei nostri figli, lamentano i residenti, sottolineando l'urgenza di soluzioni efficaci, come l'installazione da parte di ferrovie dello Stato di pannelli fonoassorbenti e di un capannone per contenere le emissioni nocive. Un rapporto dell'Arta conferma che i livelli di rumori superano i 70 decibel, oltrepassando i limiti legali. Attendiamo che le ferrovie dello Stato rispondano con azioni concrete alle nostre legittime richieste, conclude il comitato.